Il coronavirus ha occupato i palchi del prestigioso Picture Horn, festival di musica rock che in Austria, dall'anno 2000, ospita concerti con la partecipazione di star mondiali di indiscussa qualità. Il festival si tiene a Bildein, che è un piccolo villaggio di 250 abitanti, nella regione del Burgelland austriaco, ai convini con l'Ungheria, che per una volta all'anno, in alcuni giorni, e in un meraviglioso campeggio giardino, diventa città da 8-10 mila abitanti, provenienti da città come Vienna, Graz, fino a città ungheresi, quale Sekesvhervar. Qualche giorno fa, gli organizzatori hanno annunciato ufficialmente che, a seguito della decisione del governo austriaco, prossima estate non sarà possibile organizzare il festival, che ogni anno riunisce fino a oltre 10 mila appassionati e famosi gruppi musicali. Di recente era già stato segnalato anche l'annullamento del tour europeo di diverse band, comprese quelle statunitensi. Ma il 2020 sarebbe stato il ventesimo anno dell'importante festival austriaco, a cui un appassionato come me, neppure quest'anno, sarebbe mancato all'ormai tradizionale appuntamento. Picture Home non è solo un festival, ma anche una serie di eventi culturali e gastronomici. Non c'è quindi da stupirsi che tutti i biglietti per l'evento dei due giorni erano già state vendute nel solo volgere di appena 48 ore. Inoltre, le richieste di biglietti online avevano già raggiunto il picco di ben 8 mila. Ma il piacere di ritrovarsi a Bill Dane, con tanti amici, ricalca il clima dell'antica Woodstock, 1969, ma in una realtà sociale distante esattamente 50 anni ormai. Allora erano i tempi di Joe Cocker, Jimi Hendrix, Joan Bytes, Credence, Clare Water, Revival, The Who, Melania Safka e centinaia di altre band divenute famose nel mondo della musica rock. Gli anni di Bill Dane, invece, sono quelli in cui hanno visto l'esibizione dei Nazareth, The Subways, Kalexico, Manfred Mann, Royal Republic, Uria Hip e tanti altri, fra i quali i finlandesi Leningrad Cowboys e gli ungheresi. Ocio Macio, i più interessanti che abbia visto esibire nel festival austriaco-ungherese. Proprio così, austriaco-ungherese, perché Bill Dane è parte integrante del territorio che i vincitori della Prima Guerra Mondiale, attraverso il Trattato di Pace del Trianon, avevano scorporato dall'antica Ungheria alla fine dell'impero austro-ungarico. Purtroppo la ventesima edizione del Pitcher Horn diventa Pitcher Hoff. Ma si rifarà il prossimo anno, quando, il 13 e 14 agosto 2021, riapriranno i battenti dei due palchi all'interno di un meleto in cui i bambini giocano nella sabbia accanto ad uno dei palchi e i loro genitori, comodamente seduti sull'esbraio, assistono a un festival assolutamente diverso dagli altri a cui, almeno una volta nella vita, dovrebbero partecipare anche coloro che non sono appassionati della coinvolgente musica rock. Per avere un'idea ancora più chiara sull'importanza dell'evento, invito a leggere alcuni dei miei numerosi articoli scritti in occasione dei precedenti festival Pitcher Horn di Bill Dane, in cui i link sono indicati in descrizione proprio qui sotto al video di YouTube. Purtroppo la chiusura di diversi festival rock di cui il centro Europa è pieno sarà il leitmotiv delle prossime stagioni. Ancora non c'è un pronunciamento definitivo per i concerti Al-Teraba Festival de Curement, Volta Showpron, Balaton Sound e naturalmente i Siget Festival sull'isola Margherita del fiume Danubio a Budapest, che per circa una settimana accoglie turisti da ogni parte del mondo. Per il momento non esiste una posizione ufficiale, ma un segnale rivelatore è che le informazioni sui grandi concerti rock nel centro Europa non sono ancora disponibili sulle interfacce online. Intanto gli organizzatori austriaci costretti ora a un forzato Pitcher Off sono già concentrati nell'organizzare l'edizione del ventennale 2021 passando di nuovo alla modalità Pitcher On. Un saluto da Rocco Turi con l'invito a iscrivervi al canale.